Politica regionale mobilitata per l'avvertenza Santa Croce di Canistro dove sono a rischio 75 posti di lavoro a seguito della mobilità decisa dall'attuale proprietà che non ha ottenuto proroghe per la concessione dopo l'annullamento del bando vinto nell'autunno 2015. La novità ribadita dal vicepresidente Giovanni Lolli sia a Canistro in occasione di un'assemblea pubblica nell'aula consigliare sia a Palazzo dell'Emicicolo in conferenza di Capigruppo è che il nuovo bando è pronto e prevederà un ambizioso piano industriale adeguati livelli occupazionali. Recentemente nell'ultimo incontro abbiamo trovato un punto che secondo me è un punto ragionevole a me non mi interessa di fare questioni di principio, questioni di principio le faremo in altra sede a me interessa di avere la disponibilità di quel pezzo di bene che rende il bando possibile gli avvocati a Santa Croce ieri sono messi in contatto con i nostri dirigenti e spero che su questo si arrivi nel giro di questa settimana a un punto di accordo noi rientriamo in possesso del bene, parte il bando e il bando poi è il bando risponderà a chi ha interesse a rispondere, è chiaro che il bando verrà fatto diversamente da come fu fatto precedentemente. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio però esprime preoccupazioni per le tempistiche i lavoratori, terminata la mobilità, avranno infatti al massimo due anni di naspi, il nuovo ammortizzatore sociale. Beh l'unica preoccupazione è quella di salvaguardare i posti di lavoro e di salvaguardare un'attività così importante che porta anche il nome dell'Abruzzo. Oggi abbiamo audito il vicepresidente Lolli, su questo versante l'intera conferenza converge, l'unità è quella di tutelare i posti occupazionali. Nella riunione di Canistro il sindaco Angelo Di Paolo ha ribadito con forza che tutta la comunità è compatta nel voler salvare e rilanciare lo stabilimento, con quale imprenditore non importa purché sia ambiziosa e capace di far tesoro di una delle migliori acque minerali in Italia. Il mercato è molto vasto, viene aggredito, l'Italia risponde anche positivamente rispetto alla proposta di un'acqua che sappiamo tutti quanti è stata dichiarata la migliore sotto l'aspetto organolettico, delle qualità eccetera d'Italia tra tutte le altre acque, io non capisco perché altri possono avere degli spazi che non so io, non perché voglia sminuire il valore delle altre acque, ma l'Aguizza ad esempio è assoluto tanto personale, ha assoluto 100 persone e quindi perché se lo fa l'Aguizza lui non lo può fare? Evidentemente avrà altre visioni del mercato o della costruzione di un'azienda o della gestione o dell'organizzazione di un'azienda, ma questo non è che può dare la responsabilità a noi è una cosa che riguarda lui.